Ieri a Vittorio Il Giorno dei big del Movimento 5 Stelle davanti all'abitazione della famiglia Guarascio, oltre a Di Maidi Battista, anche i cancellieri, presto visibili a tutti, ha dichiarato gli atti di vendita. Un tunisino di 29 anni arrestato dai carabinieri a Comiso dopo aver scippato una donna romena si era detto pronta alla restituzione ma in cambio pretendeva di ricevere la somma di 400 euro. Una casa lucirossa scoperta a donna lucata dalla polizia a segnalare uno stanno viavata all'abitazione alcuni residenti della zona. E' stata per tento denunciata una donna originaria di Santo Domingo. La Ciana è territoriale chiede chiarezza in merita alla recente presentazione del marchio Vittorio Mercati, che opera nell'imballaggio, dicono i dirigenti parini, non possono sostenere costi così pesanti. Il commissario del libero consorzio Dario Cartabellotta ha confronto con i sindaci blei obiettivo individuare i criteri per rimodulare i progetti dei fondi ex Insicem con insieme la viabilità provinciale. Benvenuto al nuovo appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia, vicenda di Casa Guarascio e ridunque il giorno a vittoria dei Big del Movimento 5 Stelle davanti all'abitazione della famiglia. Oltre a Di Maio e di Battista anche i cancellieri, quale ha affermato che saranno presto visibili a tutti gli atti di vendita della casa. Grilini che hanno chiarito in particolare alcuni dettagli sulla donazione di cui tanto si è parlato in questi giorni, permettendo così alla famiglia Guarascio di ricomprare l'immobile. Non si placa la eco sul vertice 5 Stelle organizzato ieri mattina a Vittoria davanti casa della famiglia Guarascio. Il Movimento ieri in città ha voluto spiegare alcuni dettagli sulla donazione che ha permesso alla famiglia di ricomprare l'immobile. Presenti per l'occasione i portavoce dei 5 Stelle Giancarlo Cancellieri, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista. Quest'ultimo in particolare ha ricordato che il Movimento, con questo gesto, ha voluto puntare l'attenzione sull'impignorabilità della prima casa. Questo è un gesto davvero importante e siamo qui anche per rilanciare una proposta che è del Movimento 5 Stelle, l'impignorabilità della prima casa. La prima casa non si deve toccare. Io vedo oggi che qua falliscono le banche, falliscono le banche non perché c'è la guerra termonucleare, falliscono perché certi banchieri ci hanno mangiato sopra, ci hanno lucrato, hanno fatto speculazione vergognosa. E poi quando fallisce una banca interviene il famoso bail-in, parole inglesi che servono ai cittadini a non capire. Si tratta che preleveranno anche denari dai correntisti che hanno soldi nelle banche. Ecco, e temiamo che sempre più con questa crisi bancaria che, ripeto, è determinata dalla politica che è diventato sostanzialmente un sorrogato delle banche e dai grandi pezzi grossi delle banche, temiamo che possa mettere sempre in pericolo le case delle persone. Sul posto anche il deputato regionale Vanessa Ferreri, la quale ha precisato che il Movimento non si pone l'obiettivo di risolvere i tanti casi guerrascio contribuendo economicamente, ma di cambiare la legge per aiutare tutti. Noi con questo vogliamo solamente scardinare il silenzio che c'è sull'impignorabilità della prima casa, sulle aste, su cosa succede dietro le aste. Perché la prima va deserta, la seconda pure, la terza alla fine la casa viene svenduta ad un prezzo minimo che può essere 10.000-15.000 euro, case del valore di 200.000 euro, assolutamente svendute e ripeto, in questa casa non ci guadagna nemmeno la banca perché il debito resta. Nel suo intervento invece Di Maio ha precisato che la casa è stata acquistata per 46.000 euro e i grillini hanno contribuito al suo acquisto con circa 30.000 euro, mentre la restante parte è stata messa dalla famiglia vittoriese. Il figlio Antonio però anche ieri mattina ha parlato di una casa che è stata riacquistata a prezzo di mercato, per un valore tre volte superiore a quello sborsato all'asta, che era di 26.750 euro. Si resta dunque in attesa di vedere gli atti di vendita e quello di donazione, che come ha annunciato lo stesso Cancellieri, saranno visibili presto a tutti. A breve quindi potrebbero essere caricati, come consuetudine dei pentastellati, nel loro sito. A replicare a chi li accusa di aver messo in piedi uno spot elettorale, l'onorevole Cancellieri, chi ha dichiarato, si tratta di persone che elaborano questi pensieri seduti comodamente dietro le loro scrivanie. Definiscono questi nostri atti mediocri, populistici e piccoli. La realtà è molto più bella. Questi fatti e questi gesti hanno più cuore di quelle persone che li hanno definiti mediocri, piccoli e populisti. Questa è la verità. Un tunesino di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri a Comiso dopo aver scippato una donna romena, si era detto pronta a restituirle il tutto, ma in cambio pretendeva di ricevere 400 euro e così scattata la trappola dei carabinieri che lo hanno arrestato in piazza Fonte Diana. Arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Comiso un pregiudicato tunisino di 29 anni, Anuar Arfawi, con l'accusa di estorsione e furto con strappo. L'uomo lo scorso 20 gennaio aveva scippato una romena di 41 anni residente a Comiso. Nella borsetta le chiavi di casa e diversi documenti personali, tra cui il passaporto rumeno e documenti di riconoscimento italiani. Da quel momento il tunisino ha iniziato a tempestarla di chiamate dal tono minatorio, chiedendole la somma di 400 euro in cambio di quanto le aveva rubato. Insomma, stava mettendo in piedi la classica estorsione con il cavallo di ritorno. La signora si è prontamente rivolta ai carabinieri denunciando non solo lo scippo, ma anche le pressanti richieste telefoniche del tunisino. I militari, intuendo quanto sarebbe accaduto, d'accordo con la denunciante, hanno teso la trappola al malvivente. La donna ha quindi dato appuntamento al tunisino in piazza Fonte Diana, a Comiso, ad assistere allo scambio i carabinieri nascosti tra la gente che sono intervenuti e lo hanno bloccato. Recuperate quindi la refurtiva e le banconote che i militari stessi poco prima avevano fotocopiato per provare senza ombra di dubbio l'avvenuto scambio. Il tunisino, già noto ai militari e con precedenti penali contro il patrimonio, è stato condotto in caserma e al termine delle formalità di rito è stato rinchiuso nella casa circondariale di Ragusa. Qui resterà a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Monica Monego, dinanzi alla quale dovrà rispondere dei reati di estorsione e furto con strappo. Una casa a luci rosse è stata individuata e chiusa dalla polizia a Donna Lucata a segnalare uno strano via vai dall'abitazione di alcuni residenti della zona che hanno chiamato il 113. Nuova operazione della polizia di stato squadra mobile a contrasto delle case a luci rosse. In particolare la squadra mobile è stata informata da alcuni residenti della zona di Donna Lucata su uno strano via vai da un'abitazione solitamente disabitata nel periodo invernale. I poliziotti arrivati in via Miciche hanno subito notato che dalla porta d'ingresso della casa segnalata si era affacciato una donna, come per controllare. Dopo qualche istante la porta si è aperta nuovamente ed è uscito un uomo che si è allontanato frettolosamente. Questo è stato fermato ed identificato, mentre altri agenti sono entrati nell'appartamento. In casa una donna di circa 40 anni, in abiti succinti, originaria di Santo Domingo, Repubblica Domenicana e residente a Madrid, in Spagna. La donna era in possesso del permesso di soggiorno spagnolo, valido per tutta l'Europa. La ragazza ha precisato agli agenti di pagare un affitto per vivere lì e di non aver detto al proprietario di avere l'intenzione di prostituirsi all'interno del suo immobile, ma aveva avuto nel contempo la sensazione che questi ne fossi a conoscenza. Appena stabilitasi nell'appartamento ha subito messo un annuncio su internet su un sito specializzato per pubblicizzare le sue prestazioni sessuali a pagamento. Ha riferito inoltre di aver girato tutta l'Europa prostituendosi, cambiando città di volta in volta grazie al passaparola tra colleghe. L'operazione è la prima del 2016, operata dalla squadra mobile in provincia di Ragusa in materia di contrasto alla prostituzione. Segue gli interventi che nel 2015 hanno portato alla chiusura di ben 15 case, la maggior parte nel comune di Ragusa. Presentate intanto ieri presso il cortile della prefettura le nuove auto della Polizia di Stato da impiegare nei servizi di controllo del territorio. Si tratta di quattro Seat Leon che verranno assegnate alla sezione volanti dai commissariati di Modica, Vittoria e Comiso. Sono state presentate ieri pomeriggio le nuove autovetture della Polizia di Stato da impiegare nei servizi di controllo del territorio. Le auto sono state sistemate per l'occasione all'interno del cortile della prefettura. Andranno ad arricchire il parco auto della sezione volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei commissariati di Modica, Vittoria e Comiso. Le nuove vetture permetteranno un turnover dei mezzi a disposizione delle pattuglie, consentendo un livello più alto di efficienza ed efficacia del servizio di controllo, prevenzione e repressione. Le nuove volanti, dotate di motore 2.0 TDI 150 CV con cambio manuale a sei rapporti, sfoggiano una nuova livrea tricolore. Importanti le dotazioni di sicurezza allestite nelle Seat Leon che hanno anche già installato il sistema di videosorveglianza Mercurio, il quale consente un veloce e automatico accertamento delle targhe e dei veicoli incrociati. In questo modo gli operatori possono individuare in tempo reale le auto da ricercare. Sui mezzi anche una barra luminosa con un pannello a LED in grado di visualizzare messaggi come rallentare o pericolo. Voltiamo pagina e nel provincio di Ragusa le regole della viabilità urbana presentano ogni tanto aspetti curiosi. Si può infatti assistere anche al pagamento del pedaggio nei confronti di invalidi che parcheggiano l'auto pur esponendo il regolare cartellino di invalidità. Pur mettendo in bella mostra sul crossorto dell'auto il cartello che certifica una condizione di invalidità a Comiso non c'è scampo perché arriva ugualmente il pagamento del pedaggio 2,50 euro e la mara sorpresa è toccata da un vittonese che aveva lasciato l'auto sulle strisce blu tranquillo che con la tabellino di invalidità in vista era a posto. Nulla di tutto questo perché al ritorno in auto ha trovato l'avviso di pedaggio sul parabrezza. Richiesto di una spiegazione all'operatore di turno si è sentito rispondere che a Comiso anche gli invalidi pagano per parcheggiare. Risulta curioso a questo punto che proprio un'amministrazione di sinistra che ha comunque dato il servizio in concessione ad una ditta sia così severa verso un'utenza che vive un disagio fisico acclanato e certificato. Un episodio che di per sé emblematico e mette in luce intanto la bramosia figlia anche della crisi di tanti comuni di fare cassa comunque ovunque senza magari mettersi una mano sul cuore per cui alla fine a manchiare sono i buoni rapporti tra chi amministra e chi ha amministrato. La speranza adesso è che l'episodio di Comiso non venga emulato da altri comuni, forse oltre che ad un psicologo o qualche amministratore manca un filosofo, uno cioè che le aiuti a capire che oggi esiste qualcosa anche più importante della quarto d'ora di sosta. A Vittorio il sindaco Nicosia interviene in merito alla situazione che si regista da settimana nel comparto agricolo dove i prezzi dei prodotti sono molto bassi. Dopo essermi consultato con altri sindaci ha dichiarato Nicosia tra i quali quello di Pachino ho deciso di iscrivere al ministro delle politiche agricole Marizio Martina per chiedere di attenzionare le dinamiche che governano la formazione del prezzo nella finiera che va dal produttore al consumatore ma anche e soprattutto l'ingresso di prodotti del Maghreb e dall'estero in generale. Servono, dice Nicosia, controlli stringenti e deve essere questo uno dei punti di maggiore intervento con la repressione soprattutto di frodi e controlli capillari. Per quanto riguarda invece il marchio Vittorio Mercati e la cassetta brevettata sarà pagata una royalty e l'interrogativo della CNA territoriale che vorrebbe maggiore chiarezza in quanto affermano i vertici, chi opera nell'imballaggio non può sostenere costi così pesanti. La Vittorio Mercati e il consorzio Ortofrutta Vittoria qualche giorno fa, a sorpresa, hanno avviato la commercializzazione dei prodotti a marchio Vittorio Mercati in un moderno ed elegante imballaggio in cartone. Lo rileva la CNA territoriale a dire della quale la questione ha creato e sta creando non poche preoccupazioni tra gli operatori del settore imballaggi. Infatti, rimarco nel presidente Giuseppe La Terra e il responsabile organizzativo Giorgio Stacquadano, serve a questo punto fare chiarezza per cui nasce spontaneo un interrogativo. Con questo moderno ed elegante imballaggio non è che tutta la merce sarà commercializzata con logo Vittorio Mercati e messa in questa specifica cassetta? Se così fosse, evidenziano la Terra e Stacquadano, le imprese locali che producono imballaggi dovranno realizzare questo prodotto previ a concessione di una licenza e pagare una royalty alla ditta che possiede il brevetto. In questo modo si verrebbe però a creare una sorta di dipendenza, diciamo pure un monopolio. Quindi il quesito che pone la CNA è il CDA delle Vittorio Mercati ha forse approvato un disciplinare di produzione imballaggi che prevede una cassetta brevettata? Sarebbe pertanto auspicabile, concludono alla CNA, che l'amministrazione comunale ma anche la stessa Vittorio Mercati facessero chiarezza, mentre al contempo chiederemo un incontro al presidente di Vittorio Mercati per capire e soprattutto ottenere risposte in merito. L'esponente del Movimento Civico Selami-Lacambi, Salvatore Salemi, denuncia le condizioni di incuria di Vittorio Scoglitti chiedendo all'amministrazione un pronto intervento, strada e colabrodo, perdita di acqua e randaggi, rimarca Salemi con Vittorio Scoglitti che sono all'abbandono da tempo e si ripresentano sempre gli stessi problemi che non vengono mai risolti, allora l'ordinaria amministrazione non è garantita in alcun modo e non c'è, conclude Salemi, una programmazione seria nell'affrontare i problemi. A Dacate il sindaco Franco Rasso ha denunciato di avere ricevuto quattro lettere di minacce indirizzate ai suoi quattro assessori, lettere poi consegnate ai carabinieri. Lettere anonime dai contenuti abbastanza pesanti, dice Raffo, dopo aver massacrato giornalmente il sottoscritto, adesso qualche mascalzone si presta a fare questi ignobili gesti, hanno visto che ho la corazzatura e hanno pensato di cambiare il tiro, attaccando i quattro assessori, i quali, dice ancora Raffo, essendo giovani non sono abituati a questo tipo di pressioni. In questo clima di tensione è dunque davvero difficile operare, conclude il sindaco di Acate, ma andremo avanti per il bene della collettività, in quanto bisogna ancora chiudere il bilancio preventivo 2015. Timora di cronaca, intanto il fermo di due scafisti, due prime scafisti nel 2016, uno in minorenne è stato condotto in Italia, 279 migranti, a bordo una barcone talmente sovraccarico che in ogni momento avrebbe potuto capovolgersi, poi racconti dei testimoni, non c'è stato un solo secondo del viaggio che non abbiamo avuto paura di morire. Con questi due fermati nel 2015 ne sono stati fermati 147, con la polizia che poi ha proceduto a pozzarlo, a identificare tutti i migranti in attesa del trasferimento in altri centri. Poi a Ragusa invece la polizia che in quest'ora ha sventato due furti e ha recuperato un furgone rubato, tutto questo nell'ambito dell'attività di prevenzione dei reati di tipo predatorio, in azione alle volanti appunto della polizia della questura che durante la serata di ieri hanno sventato due furti e ha recuperato un furgone che era stato rubato a Caltanissetta qualche giorno prima. Il commissario del libero consorzio di Ragusa, Dario Cartabellotta, ha confronto con i sindaci, i blei, obiettivo individuare i criteri per rimodulare i progetti dei fondi ex insicem, otta di interventi per la viabilità provinciale. Confronto non stop a Ragusa tra i sindaci dei comuni blei, il commissario straordinario del libero consorzio Dario Cartabellotta, il tavolo istituzionale ha deciso di accettare intanto una riconversione dei progetti non ancora attuati e inseriti nell'accordo di programma dei fondi ex insicem. Entro un mese i comuni dovranno far pervenire proposte alternative per lo stesso finanziamento per progetti, in questo caso però esecutivi. La parola d'ordine è accelerare la spesa dei fondi in questione, sia per i progetti infrastrutturali che per le azioni destinate alle imprese. Il commissario vorrebbe quindi imprimere una forte accelerazione, non c'è più tempo da perdere, ha affermato, i comuni si devono dotare di progetti esecutivi alternativi perché non possiamo aspettare la realizzazione di opere che hanno perso anche il loro valore strategico. Il confronto ha permesso anche di mettere in campo priorità e criteri per la suddivisione del milione di euro assegnato allo stesso libero consorzio con l'ultima legge finanziaria. Intanto una prima fetta verrà destinata alle emergenze, a cominciare dalla viabilità e quindi dalla Pozzallo-Marza dove parte della carreggiata e crollata e con il rifacimento del manto stradale per alcuni tratti della provinciale Ragusa-Castiglione. Interventi previsti anche per la pulizia dei cigli stradali da tempo abbandonati a se stessi e su tutte le state provinciali che verranno segnalati dai sindaci. Sempre a Ragusa, via Mongibello, un rattoppo non eseguito a regola d'arte, sta creando disagio alla circolazione veicolare. Su questo argomento è intervenuta la consigliere comunale di Insieme, Lisa Marino, che ha chiesto interventi all'amministrazione comunale. Per questo dice alla Marino che mi faccio portavoce delle stanze del Ragusano affinché il tratto di strada di cui si parla, dove nei pressi, insiste, anche una scuola dell'infanzia possa essere ripristinato nella migliore maniera. L'associazione di protezione ambientale Fareverde di Vittoria evidenzia in queste ore il proliferare sul territorio di decine di discariche abusive che deturpano periferie e campagne della nostra città con gravi conseguenze, dicono, ambientali e di natura igienico-sanitaria. Se ne segnala una, come appunto vediamo in questa foto, discarica abusiva al chilometro 4 della strada comunale Ex Provinciale Vittoria Pedalino, discarica che insiste sul ciglio della strada, oltre a deturpare la bellezza paesagistica di una contrada avvocata alle nostre eccellenze vinicole, rappresenta, dicono, da Fareverde, un potenziale pericolo di tipo alimentare, visto anche il transito quotidiano di gregge o vino in questo sito. Il calcio, con Licata che osserva un turno di riposo, domani la Nissa di scena a Santa Croce potrebbe nuovamente allungare il passo, nonostante i recenti passi falsi, infatti la capolista mantiene sempre un robusto vantaggio sui giallobluti. Riflettori accesi domani in promozione a Santa Croce e Camerina dove arriva la Nissa capolista, uno rullo compressore nel giornone di andata e invece meno affamata in quello di ritorno appena cominciato. Lulla toglie però che, nonostante l'ultima sconfitta, contro Canica cattia Licata, la formazione nissena si è ancora ben salda al comando della classifica, non solo perché domani, con l'Elicata che si ferma un giro, la Nissa potrebbe trovarsi nuovamente a più 10 sui gialloblu. Per fare questo bisognerà ovviamente battere i camarinensi e non sarà certo una passeggiata. Dietro, con la corsa playoff che è entrata nel vivo, pressa l'Atletico Gela, ospite del Marina di Ragusa, con i gelesi che presteranno anche un orecchio alla partita tra Ravanusa e Canicattì, facendo ovviamente il tifo per i locali, mentre la Ragusa anticipa col Macchitella Gela e il Comiso con la new team Raguse. In programma domani anche Aragona Palma e Caltanissetta Casteltermini. In prima categoria invece ferma la capolista Eobea, c'è il vittore di Guzzardi che vuole toccare quota 9 vittorie consecutive. Al comunale arriva la rinascita netina, occasione quanto mai propizia per accorciare le distanze dalla vetta. Ed eccoci al riepilogo dei fatti in primo piano. Ieri a Vittorio Il Giorno dei big del Movimento 5 Stelle davanti all'abitazione della famiglia Guarascio, oltre a Di Mai di Battista, anche i cancellieri, presto visibili a tutti, ha dichiarato gli atti di vendita. Non si placa in città l'eco sul vertice dei 5 Stelle davanti alla casa della famiglia. I grillini hanno anche chiarito alcuni dettagli sulla donazione, di cui tanto si è parlato, permettendo così alla famiglia di ricomprare l'immobile. Un tunisino di 29 anni arrestato dai carabinieri a Comiso dopo aver scippato una donna romena si era detto pronta alla restituzione, ma in cambio pretendeva di ricevere la somma di 400 euro. Per il tunisino è stata così preparata la trappola, in quanto la donna ha denunciato tutti i carabinieri. Ad assistere infatti allo scambio in piazza fontediana c'erano anche militari, che sono subito intervenuti, bloccando il giovane estorsore. Una casa lucirossa è scoperta da donna lucata dalla polizia, a segnalare uno stanno via vada all'abitazione di alcuni residenti della zona. È stata pertanto denunciata una donna originaria di Santo Domingo. 40 anni in abiti succinti, la donna ha spiegato agli agenti di pagare un affitto per vivere e di essere in possesso di irregolare permesso di soggiorno. Ha detto anche di aver girato mezza Europa, facendo sempre questo particolare mestiere. La CNA è territoriale, chiede chiarezza in merito alla recente presentazione del marchio Vittorio Mercati, che opera nell'imballaggio, dicono i dirigenti parini, non possono sostenere costi così pesanti. I vertici alla CNA, Giuseppe la Terra e Giorgio Stacquadano, si chiedono se, con questo moderno ed elegante imballaggio, la merce sarà adesso commercializzata con logo Vittorio Mercati e messa naturalmente nella specifica cassetta. Il commissario del libero consorzio Dario Cartabellotta ha confronto con i sindaci Blei, obiettivo individuare i criteri per rimodulare i progetti dei fondi ex Insicem con insieme la viabilità provinciale. Un confronto non stop tra i sindaci dei comuni Blei e il commissario per una riconversione dei progetti che non sono ancora stati attuati ma inseriti nell'accordo di programma. Presto ci saranno anche interventi di pulizia e anche in alcune arterie provinciali. Telegiornale termina qui, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. Grazie.